E' più che una voce, i ricorsi al TAR di Catania per chiedere un nuovo conteggio delle schede elettorali del primo turno delle elezioni amministrative di Messina verosimilmente saranno presentati entro i termini in scadenza nelle prossime ore, almeno uno su tre ipotizzati dovrebbe essere certo. Quei 59 voti che non hanno consentito al candidato del centro-sinistra Felice Calabro di vincere il primo turno il 10 giugno scorso non sarebbero andati giù ad alcuni cittadini che sperano ancora di togliere la fascia tricolore arenato a Corinti. Il candidato di centro-sinistra ha più volte precisato di aver accettato la sconfitta, consapevole del fatto che interrompere un percorso amministrativo avviato costituisce un danno per la città, ma a presentare le carte al Tribunale amministrativo regionale ci penseranno comunque alcuni politici che ambivano al ripescaggio in caso di vittoria di Calabro. Gli indizi conducono al PD, ma anche ad una parte dell'Udc. Ovviamente a figurare saranno comuni cittadini. I legali della politica da Tribunale faranno il resto. Per le decisioni definitive trascorreranno mesi. Se i ricorrenti andranno fino in fondo, la giustizia amministrativa darà loro ragione. Dopo il conteggio delle schede Calabro avrà titolo per insediarsi al vertice di Palazzo Zanca. La spada di Damocle questa volta pende sulla giunta a Corinti.